Giorno 431. Le notizie di oggi vengono principalmente da Est. Con la scadenza per la cattura di Bakhmut oramai in arrivo, la Wagner ha cominciato a usare unità d'assalto più riandi e catturato diverse posizioni ukraine, facendo forza sul loro numero. Tuttavia gli ukraini si sono riorganizzati e contrattaccati con i carry, disinterrando più di sei edifici che venivano usati come fortificazioni dalla Wagner. Ciò ha costretto i russi a creare diverse squadre con l'incarico di raccogliere i morti causati da questo attacco. L'ultima volta che abbiamo analizzato Bakhmut, gli ukraini avevano cominciato a demolire posizioni che aveva russe con attacchi di precisione. L'uso di missili e bombe aeree avevano danneggiato in modo significativo la logistica russa e li ha costretti a prendersi del tempo per agrupparsi. Video rilasciati dei russi mostrano le truppe russe utilizzare altri edifici per bersagliare le posizioni ukraine più distanti. Per quanto riguarda gli edifici a dieci piani, i russi non hanno nemmeno bisogno di raggiungere il tetto e potendo i russi in via Levanovskava tenere sotto tiro l'intera parte ovest della città, sono diventati i bersagli primari delle operazioni ukraine. Video di combattimenti recenti mostrano come gli ukraini abbiano, a giudicare dall'esplosione, utilizzato degli EMARS per distruggere questi edifici. Un altro video mostra esplosioni controllate di un edificio a più piani dall'altra parte della strada. Questo edificio in particolare causava diversi problemi agli ukraini essendo un nido di cechini russi. Come visto in precedenza, durante i combattimenti urbani così intensi la linea del fronte può spostarsi più volte in un sol giorno e sembra che gli ukraini abbiano condotto un contrattacco e prima di essere costretti a ritirarsi piazzato gli esplosivi nell'edificio. Il fatto che i russi si stessero raggruppando li ha resi più vulnerabili a questo tipo di operazioni, che ha infatti avuto successo e permesso agli ukraini di ottenere migliori risultati che con gli EMARS. Nella parte centrale della regione ci sono stati molti cambiamenti. Diversi rapporti suggeriscono che gli ukraini hanno abbandonato il dipartimento di ingegneria e preso posizione negli edifici a più piani. Secondo alcuni analisti lo scopo è quello di muoversi più vicino alle fortificazioni principali, mentre secondo altri sono stati costretti a questo spostamento a causa dell'avanzata russa da sud. La prima ipotesi è quella che ha più senso, in quanto secondo video recenti i russi non hanno un fermo controllo sulla regione. Il loro scopo principale è quello di dividere in due le forze ukraine a Bakhmut, tuttavia anche dopo aver stabilito controllo sul college industriale, gli ukraini possono ancora muoversi liberamente tra le due parti grazie alla geografia locale. Il territorio dietro le case è situato nelle pianure, rendendo impossibile il fuoco diretto. Recenti video dei combattimenti mostrano come gli ukraini abbiano condotto un attacco inaspettato contro posizioni russe sparando con due carri da due lati. Dopo l'attacco i droni hanno filmato i movimenti russi che recuperavano cadaveri con un'enorme carriola. Gli ukraini hanno colpito nuovamente concentrazioni di truppe dietro il college industriale, anche se non è chiaro se abbiano già condotto il contrattacco. Video più vecchi infatti mostrano come queste manovre permettano ai ukraini di recuperare diversi equipaggiamenti. Uno in particolare ha ripreso il momento in cui i ukraini ripuliscono le armi prese alla Wagner, mentre un altro ha ripreso il trasporto di un sistema termobarico catturato presumibilmente nelle vicinanze di Bakhmut. Prigojin ha dichiarato che la Wagner è riuscita ad avanzare di 250 metri in alcune zone ma ha enorme costo. Secondo il suo rapporto avrebbero perso 99 soldati in un sol giorno anche se si presume che le perdite siano molto più alte, considerando i bombardamenti e attacchi di carri ucraini contro le posizioni russe. Ha sottolineato ancora una volta il fatto che stiano subendo 5 volte più perdite del previsto. In una recente intervista ha detto che, se il ministro della difesa dovesse continuare a metter loro i bastoni tra le ruote, la Wagner sarà un bivio decisionale tra rimanere a Bakhmut e morire oppure ritirarsi. Prigojin ha continuato i suoi sforzi nel convincere il Kremlino della necessità di passare alla difensiva nell'est dell'Ukraine e sua opinione che gli ukraini contrattaccheranno prima del 15 di maggio e ha criticato le forze regolari russe perché non sembrano intenzionate a rinforzare i fianchi Wagner per respingere gli attacchi. Non è chiaro quanto ci sia di vero nelle sue dichiarazioni, ma la cosa è chiara. Negli ultimi due mesi Prigojin ha fatto di tutto per essere una fonte cristallina di informazioni, così nel caso dovesse accadere una catastrofe potrà scaricare su altri la colpa e mantenere la propria reputazione intatta. Tre giorni fa il portavoce della decima brigata d'assalto ha annunciato che le forze ukraine stavano preparando una grossa sorpresa per la Wagner, cosa ripetuta anche dal portavoce della 93esima brigata meccanizzata e da un combattente della terza brigata d'assalto, tutte unità che stanno combattendo dentro e intorno a Bakhmut. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potrete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ukraini per poter mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.